Tril Soda ha assunto un'azienda di marketing per fare concorrenza a Ian Micola. L'azienda di marketing ha raccolto i seguenti dati sulle preferenze dei consumatori. Anno per anno ci sono le percentuali di chi ha preferito Ian Micola, quelle di chi ha preferito Tril Soda e quelle di chi non ha espresso alcuna preferenza. Nel 2006 l'80% preferiva Ian Micola, solo il 12% Tril Soda e l'8% non ha espresso alcuna preferenza. Infatti, da questi numeri vediamo che moltissime persone preferivano la Ian Micola rispetto alla Tril Soda. La Ian Micola deve essere davvero una buona bevanda. Poi ci dicono che l'azienda di marketing ha creato i due grafici qui sotto per promuovere la Tril Soda. Vediamo di che cosa si tratta. Saranno sinceri o no? Se guardiamo questo grafico, effettivamente nel 2006 l'80% preferiva Ian Micola. Nel 2007 il 76% e poi il 77%, il 73%, il 73%, il 68%. Perciò i dati sono accurati. Questo grafico rappresenta i dati che avevamo nella tabella. Nel grafico ci sono i dati relativi alla Ian Micola. Questi qui. E il grafico è corretto. Poi, qui a destra, abbiamo la percentuale di persone che preferiscono Tril Soda. Vedo che nel 2006 erano il 12%, nel 2007 erano il 19%, nel 2008 19%, poi 20%, 21% e 25%. Anche questo grafico è accurato. Questi grafici non stanno mentendo. Nel secondo grafico ci sono esattamente i dati di chi preferiva la Tril Soda. Ma quello che ci può ingannare è che, se guardiamo velocemente questi due grafici senza far caso ai numeri sulla sinistra, diremmo che la Ian Micola ha un andamento decrescente. E in effetti i grafici di questo tipo mostrano molto bene gli andamenti. Diremmo che la Ian Micola ha un andamento decrescente. Sempre meno persone la preferiscono. E diremmo che la Tril Soda ha un andamento crescente. Quindi la stanno preferendo. E fin qui è tutto vero. Abbiamo un andamento decrescente a sinistra e uno crescente a destra. Ma quello che può confonderci in questo caso sono le diverse scale dei due grafici. Le scale sono diverse, quindi se guardi questo grafico ti verrebbe da dire che la Tril Soda non solo ha un andamento crescente, ma se non stai attento ai numeri, diresti che la Tril Soda ha superato la Ian Micola. Fa sempre attenzione ai numeri e alle scale. Perfino nel 2006 ci sembra che la linea blu sia più in alto di quella rossa. Oh, accidenti! Ma in realtà questo accade perché le scale non sono uguali. Questo è un classico trucchetto che viene usato quando si tratta di creare grafici di questo tipo. Il grafico blu sembra molto buono solo perché hanno utilizzato una scala diversa, da 0 a 30, in confronto all'altra scala che va da 50 a 100. La cosa più corretta e più onesta da fare sarebbe quella di mettere entrambi gli andamenti sullo stesso grafico. Ma se lo avessero fatto, non ne sarebbe risultato nulla di buono per la Tril Soda. E se provassimo a mettere l'andamento di Tril Soda nello stesso grafico dove abbiamo Ian Micola, non riusciremmo neanche a mettere i punti sullo stesso grafico. Perché questo grafico parte dal 50%, non iniziamo dallo 0%. Se volessimo riportare l'andamento di Tril Soda, dovremmo estendere il grafico verso il basso. 20%, 10% e qui sotto 0%. E vedi, la linea di Tril Soda va a finire qui in basso. Era 12% e alla fine arriva al 25%. Approssimativamente avremmo avuto qualcosa del genere. E neanche si avvicina alla linea di Ian Micola. Se riportiamo entrambi gli andamenti sullo stesso grafico e con la stessa scala, diventa chiaro che anche se l'andamento di Ian Micola è in discesa, la maggior parte delle persone ancora preferisce la Ian Micola rispetto alla Tril Soda. Quindi ricorda di stare sempre attento alla scala. Questa distanza sul grafico a destra rappresenta il 10%. Anche se non è molto, sembra un grande incremento. E nel grafico a sinistra la stessa distanza rappresenta direi il 15% o il 16%, che è una percentuale maggiore. Inoltre, qui a sinistra la scala parte dal 50%, così ci facciamo un'idea sbagliata sulla dimensione di questo 80% o del 70%. Invece, nel grafico a destra, la scala parte da 0% e arriva solo a 30%. In questo modo, se non guardiamo i numeri, sembra che la gente preferisca la Tril Soda. Ma nella realtà, la maggior parte delle persone preferisce la Ian Micola. Questo era un esempio di dati rappresentati in modo non completamente onesto e quindi potrebbero ingannare chi li guarda. Perciò, facciamo sempre molta attenzione ai dati che analizziamo.